Accompagnati dal maestro Vince Tempera, Massimo Ragnieri interpreta Il cielo in una stanza. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi finiti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto violano, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui. Abbandonati come se non ci fosse più. Niente più niente al mondo suona un armonio. Mi sembra un organo che vibra. E per me ne c'è. E per me ne c'è. Suona un'armonica. Mi sembra un organo che vibra. Per te e per me ne c'è. E per me ne c'è. Massimo Ragnieri. Grazie.